chi guarda oggi ragione e per i gatti prova vero sesso te ne chiede un altro te ne chiede ma come sei bravo però diventa un cane vao 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 non c'è più ciao aschi domani un giorno in quel secondo posto e aschi ciao bellissimo c'era vera almeno se ne può così già ancora la persi o non tanto però si ce la vai ciao aschi giallo bene ciao aschi ciao bello ciao bello